Una camicia bianca a 6 look per l'autunno. Sfida accettata! Ciao a tutti i glow family, bentornati in un mio nuovo video. In questo video vedremo 6 look con una sola camicia bianca, che poi è quella che indosso. Penso proprio che questi video siano molto utili, perché mi fanno vedere come con un solo capo si possono creare varie combinazioni, quindi farvi risparmiare un pochino anche in termini di shopping. Fatemi sapere con un commento quale altro capo vorreste vedere abbinato in varie combinazioni. Mi raccomando inoltre, se il video vi è piaciuto, ricordate di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale e di entrare a far parte della nostra community su Facebook Senza Soldi Malamoda, dove siamo più di 3.000 donne e ragazze pronte ad aiutarci in ambito modaiolo. Spero che il video vi piaccia, buona visione! Spero che il video vi è piaccia, buona visione! Spero che il video, I think I sing it again, she had 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 All night long Let me see that That Baby, what you That Like I wanna be dope Baby, make your booty go Let me see that That Baby, what you That Like I wanna be dope Baby, make your booty go Let me see that I think I sing it again, she had 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 Don't suck it Let me see that I think I sing it again, she had Don't suck it That That I think I sing it again, she had Don't suck it That E niente Glow Family, spero che questi outfit vi siano piaciuti Fatemi sapere quale è stato il vostro preferito e quale indossereste voi Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video Vi mando un bacione grande grande e ciao! Ciao!